Io volevo parlarvi di un altro gioco che mi sta molto a cuore, che è un gioco antico che si pratica da quando all'uomo non era dato ancora il dono della parola, forse neanche dell'intelletto, perché magari non fosse bello così. Comunque adesso che ce l'abbiamo sfruttiamolo. Allora questi muscolini qui facciali, che non li lavoriamo quasi più, questi vanno lavorati affinché questo sorriso finalmente riabbracci l'umanità intera, che quando uscite di casa, invece di stringere il pugno, di adoperare questi muscolini della faccia con un gran sorriso che vi porta bene, perché quando seminate sorrisi raccogliete sorrisi, ricordatelo. Questo è un omaggio perché molte volte si dice di trattarsi di un extracomunitario, di un omosessuale, di un tossicodipendente, sono figli vostri, fanno parte di questo universo, hanno diritto di vivere come noi.